ciao a tutti eccoci qua per un nuovo video oggi facciamo vedere una funzione che dovreste già avere tutti tutti coloro che hanno l'antifurto volumetrico installato nella propria auto facciamo un esempio se chiudiamo l'auto con il classico singolo click l'auto si chiude e fra 30 secondi come di solito avviene partirà l'antifurto con l'allarme ci vediamo fra un attimo rieccoci passati 30 secondi facciamo la prova dell'antifurto e se noi andiamo dentro come potete vedere l'allarme comincia a suonare ok questa è il classico funzionamento facciamo una cosa diversa invece se invece noi andiamo a fare un doppio click ok in questo modo noi andiamo a disattivare i sensori volumetrici solo per questa particolare chiusura non per sempre perché il flag dentro la radio è sempre spuntato con antifurto volumetrico attivo quindi solo per questa chiusura i sensori saranno spenti lasciamo passare 30 secondi passati 30 secondi andiamo a vedere che i sensori volumetrici non fanno più scattare l'antifurto come vedete prima subito è suonata adesso non suona più e la macchina è ovviamente chiusa ok però cosa è cambiato che possiamo tenere giù un pochino i finestrini magari a mezz'aria possiamo tenere il tettuccio aperto quindi se entrano mosco qualsiasi insetto di fatto non suoneranno ma in qualunque caso se qualcuno tenta di sfondare il vetro e utilizza le maniglie che con la chiusura normale c'è la chiusura safe lock per chi ha l'allarme volumetrico andrebbero a vuoto non aprendo le portiere in questo caso si aprono e fa comunque scattare l'allarme se giro il quadro attendiamo l'accensione della radio car setup apertura e chiusura come potete vedere antifurto volumetrico attivo ma grazie al fatto che ho chiuso l'auto con un doppio tap ho disattivato provvisoriamente per questa singola chiusura l'antifurto che magari può servire in qualsiasi ambito in sostanza se invece lo richiudo ancora con un clic normale l'allarme attivo proprio perché nel menu come potete vedere è attivo questa è la differenza quindi i sensori volumetrici sono disattivati ma i sensori sulle portiere sono attivi e in più la chiusura safe sbloccate quindi funzionano le maniglie mi raccomando continuate a seguirci mettete un bel like al video e cliccate iscrivetevi mi raccomando alla prossima ciao a tutti